Ciao a tutti, siamo qui con un nuovissimo video del canale Siamo qui in compagnia con Rosaniec2 Eh, saluta Salve, salve popolo di Youtube Sto stupido un becino Comunque Siamo qui Perché ti ho portato in questo video? Non lo so perché Mi ha minacciato una pistola Allora sono venuto qua Dobbiamo indovinare i piccoli delle skin di Fortnite Io non ne so nemmeno uno Per questo insieme a te, vai La mia tre pausa C'è quando non ho fatto una schede Non ho fatto una schede Beh, sono più forte C'è uno su due Eh, la numero 7 Dottor Strange Sento di Spider-Man 2 Mi spiego in Spider-Man Dai Vabbè Il primo Il primo Il primo Il primo Ehm Eh Qui è un po' dicado Ma è un po' di perché Mi spieg وهmi un po' di più L'ho Il primo Tu hai avuto tutta la macchina Come ho detto è mi un po' di più Il primo Il primo La numero 1 Ecco qua La U L'ha Questa parte la U è una ariana grande 8 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 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 16 16 16 ho due il mio cittadino 3 4 vedendo che i primi con una viratura 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 15 12 13 13 14 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 questa è un amico delizio maschi però è l'amuro si sei mamma mia l'amuro l'amuro 1 7 2 R 3 3 2 A presto Sette Si è indovinato uno scappone anche se non deve essere sbagli The Rock Ok, ok, stop Vada, non mi basterebbe Eh, vada Quattro 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 Cinque Cinque Sei 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 Cinque Nove Nove Vai Sette E vai E riliano Non sto parando Tre Due Quattro Questa è Questo non posso sbagliare Questo non posso sbagliare Questo non posso sbagliare Il video Bello bello Comunque questa è quella sfida che hai perso più di me Leggi in spagnolo Vada scherzo Comunque ci vediamo nel prossimo video Ciao Uzz Per